Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca giudiziaria. 30 anni di reclusione, questa è la richiesta del PM della procura di Pescara a Narita Mantini per Davide Troilo, 34 anni, accusato dell'omicidio della ex fidanzata Jennifer Sterlecchini, di 26 anni uccisa al termine di una lite con 17 coltellate il 2 dicembre del 2016 all'interno dell'abitazione di via Acqua Torbida a Pescara. Per tutti i dettagli dell'udienza, secondo il rito abbreviato, ci colleghiamo in diretta proprio con il Tribunale di Pescara dove vedo già Paolo Rizzetti a cui do il buon pomeriggio. Paolo, insomma la richiesta è di 30 anni di reclusione. Questa è la richiesta del PM Mantini. Sì, grazie Jacopo. Siamo presso il Palazzo di Giustizia, il Tribunale di Pescara dove nell'Aula 8 si sta tenendo questa udienza preliminare riguardante il processo per l'omicidio di Jennifer Sterlecchini. È presente in Aula Davide e Troilo. Sono presenti in Aula anche i parenti di Jennifer, in particolare la mamma, la nonna ed il fratello. E poi all'esterno ci sono gli amici della ragazza che hanno tra l'altro fondato, avevano fondato alcuni mesi fa, un comitato insieme per Jennifer. Hai detto bene della requisitoria e della richiesta del Pubblico Ministero Mantini questi 30 anni di reclusione e questa mattina ovviamente l'udienza è a porte chiuse. È stata incentrata sulla perizia redatta dal consulente nominato dal giudice, il professor Di Gian Antonio, secondo il quale Troilo al momento dei fatti era capace di intendere e di volere. Dunque ora bisognerà ancora attendere nel pomeriggio, a metà pomeriggio, arriverà la decisione del GUP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio. Ricordiamo Jacopo che sono presenti all'interno dell'Aula i parenti come detto, ci sono molti amici della ragazza e ricordiamo anche che l'imputato Davide Troilo è difeso dall'avvocato Giancarlo De Marco, mentre l'accusa è rappresentata, come dicevamo, dall'APM Anna Rita Mantini. Ricordiamo inoltre che anche il comune di Pescara, la regione Abruzzo e l'associazione Ananche sono parte civile in questo procedimento. Io accanto a me ho Carola Profeta, presidente regionale dell'associazione Noi per la Famiglia, che alcuni mesi fa prese la decisione di dare vita ad un'iniziativa importante, una raccolta di firme a livello nazionale, una petizione per l'eliminazione del rito abbreviato per quanto riguarda i crimini violenti. Carola, tu hai eseguito tutta questa vicenda, avevate raccolto nei mesi scorsi queste firme a Pescara in Abruzzo, anche con la mamma di Jennifer, il fratello, ricordo un'iniziativa anche allo Stadio Adriatico di Pescara, vogliamo ricordare anche quello che è accaduto qualche mese fa. Assolutamente, la petizione parte dalla famiglia, l'associazione ha sostenuto questa petizione e abbiamo portato i banchetti della raccolta firme in tutte le piazze d'Abruzzo, in moltissime piazze d'Abruzzo, moltissime città abruzzesi, tramite anche i canali social e altre associazioni, l'abbiamo portata anche in moltissime altre regioni che ci hanno contattato chiedendoci proprio di aderire a questa iniziativa. A Pescara, fondamentale, è stata allo Stadio Adriatico la raccolta firme dove solamente in un pomeriggio abbiamo raccolto più di 2.000 firme. Quante firme avete raccolto in totale fino ad oggi? In totale abbiamo raccolto circa 25.000 firme. I banchetti e la raccolta momentaneamente si erano fermati perché il 29 novembre la proposta di legge che noi appoggiavamo era stata discussa e approvata a larga maggioranza la Camera dei Deputati e quindi attendavamo e speravamo, spiegavamo che anche il Senato prima della fine della legislatura ci fosse il passaggio e diventasse legge dello Stato. Ahimè non è andata così perché la legge è passata due volte alla Camera, è stata affossata due volte al Senato, la prima volta per i principi di incostituzionalità, la seconda volta dalla bocca proprio del Presidente Grasso perché noi siamo andati proprio dal Presidente a fare questa richiesta di far passare, di approvare questa legge ma ci ha detto che i tempi tecnici non c'erano perché a fine dicembre è finita la legislatura. Noi siamo andati il 21 dicembre. Vogliamo parlare un attimo invece di quello che sta accadendo, Carola, questa mattina qui al Tribunale di Pescara. Voi indossate questa maglietta, se la vogliamo far vedere proprio in ricordo di Jennifer. Hai avuto modo di parlare anche brevemente con la mamma e il fratello di Jennifer all'esterno dell'aula? Allora, con il fratello no perché è dentro. La mamma l'ho vista in pochissimi minuti, era molto provata, chiaramente immaginate la situazione, stare lì dentro non è facile. Noi oggi siamo qui come associazione ma anche con, c'è presente l'osservatorio nazionale sostegno delle vittime che è un'altra associazione che sta sostenendo questa battaglia del rito abbreviato ma soprattutto sostiene le vittime in tantissime altre vittime, non solo di violenza sulle donne, di femminicidi o di omicidi ma di tantissimi altri tipi di violenza. Oggi è qui il loro coordinatore nazionale perché rilanceremo già da domani la raccolta firme perché vogliamo dare un segnale forte a prescindere dalla sentenza di oggi che noi veramente auspichiamo possa essere una sentenza esemplare, che possa esserci certezza della pena perché noi crediamo che una sentenza giusta possa ripristinare uno stato di diritto che faccia da deterrente anche per i futuri possibili reati. Quindi se cominciamo a dare un segnale che chi sbaglia paga, che chi ammazza paga e paga il massimo della pena, forse salviamo qualche vittima oltre al fatto che noi abbiamo sempre detto che ci deve essere una rivoluzione culturale sotto questo punto di vista. Per chiudere, Carola, prima di restituire la linea allo studio, oggi tra gli amici, tra i parenti si sta rivivendo quel dolore, quel grande dolore provato il 2 dicembre del 2016. Allora, nessuna, lo dicevamo prima, nessuna sentenza, seppur certa, esemplare, ci ridarà indietro la nostra Jennifer. Una ragazza di 26 anni, io personalmente non l'ho conosciuta, ma la sto conoscendo tramite Jonathan e tramite Fabiole e tramite tutti gli amici e mi commuove tantissimo vedere ogni volta le fotografie, i pensieri che gli amici continuamente gli dedicano. Io ho imparato a conoscerla. Io so che era una ragazza di 26 anni che è stata barbaramente uccisa perché voleva semplicemente finire una storia d'amore, che aveva tanti progetti e a volte penso che, non è da dimenticare, perché è particolare per questo episodio di violenza, che la mamma stava fuori la porta e ha sentito e ha subito tutto la violenza proprio dal vivo. E questo per me è una cosa che mi ha sempre colpito tantissimo, mi ha sempre commosso tantissimo e per questo ritengo che Fabiola abbia dimostrato un coraggio e una dignità ineguali in Italia rispetto a tutti questi episodi di violenza. Bene, grazie. Io ringrazio Carola Profeta. È tutto dal Tribunale di Pescara, linea che può tornare allo studio. A te Jacopo. Grazie, grazie Paolo. Grazie al tuo ospite, Carola Profeta. Ripetiamo, 30 anni di reclusione. La richiesta del PM Mantini per Davide Troilo, accusato dell'omicidio proprio di Jennifer Sterlecchini. Sentenza attesa in giornata, vedremo se sarà accolta oppure sarà una pena ridotta rispetto alle richieste del PM. Cambiamo argomento adesso, ci spostiamo all'Aquila, perché un anno fa ci fu l'incidente dell'elisoccorso del 118 nel quale morirono sei persone. Oggi il ricordo sia a Campofelice che nella Basilica di Collemaggio alla presenza di familiari ed autorità al servizio di Daniela Rosone. Era il 24 gennaio del 2017, intorno a mezzogiorno un elicottero del 118 impegnato in un'operazione di recupero di uno sciatore infortunato Ettore Palanca di Roma, di mestiere Maitre in un hotel della capitale, lancia un segnale di crash mentre sorvola la località di Casamaina nel comune di Lucoli a circa un chilometro dalle piste di Campofelice nei pressi del rifugio Alantino. A perdere la vita il medico Malter Bucci, che componeva l'equipaggio dell'esoccorso del 118, l'infermiere Giuseppe Serpetti, il tecnico di bordo Mario Matrella, Davide De Carolis, tecnico del soccorso alpino, e il pilota Gianmarco Zavoli, oltre Ettore Palanca, il turista di Roma che era stato a soccorso. Prima la benedizione questa mattina del Fontanine del Monte Cefalone, poi la messa con le voci del coro degli alpini nella Basilica di Colle Maggio, che hanno accompagnato ad un anno di distanza il ricordo di questi eroi. Noi siamo rivasti fermi al 24 gennaio del 2017, perché noi, questi nostri amici che hanno perso purtroppo prematuramente e così tragicamente la vita, lasciando nella disperazione soprattutto tutti i familiari, i figli, le mogli, le sorelle, i padri, le madri, insomma, sono sempre con noi. È un ricordo triste, molto triste, perché se pensiamo che proprio in questo tra pochi minuti scattava l'allarme di questo nostro aeromobile che purtroppo era disperso, è una grande emozione. Ricordare quei momenti, io li ho rivissuti anche ieri, siamo stati sul posto della tragedia, per cui è veramente dura ripensare a quei momenti. Un anno dopo, la Procura ha scritto nel registro degli indagati sei persone, con l'accusa di disastro aereo e omicidio colposo. Si tratta di manager e tecnici privati di NENR Aviation Italia, una società che operava il volo in forza di un contatto con l'Asda di Pescara, impegnati a vario titolo nella definizione e realizzazione di politiche di sicurezza, addestramento, formazione e controllo dei piloti. Ancora cronaca, sono sei gli arresti effettuati alle prime luci dell'alba dai carabinieri di Ascoli ad Ascoli, Martinsicuro e Pozzuoli, in provincia di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura Ascolana. In carcere sei persone, quattro italiani e due albanesi, ritenute a vario titolo responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, continuata e in concorso. Contestualmente sono state eseguite dieci perquisizioni anche nei confronti di altri indagati. L'indagine è nata nell'ambito delle attività di contrasto ai reati predatori del post-terremoto del 2016, durante le quali è emerso il coinvolgimento di alcune persone già note alle forze di polizia in un'articolata attività di detenzione illecita e spaccio di eroina e cocaina. Gli indagati, hanno accertato gli investigatori, utilizzavano autonomi canali di approvvigionamento nelle province di Napoli e Teramo. Ci sono stati tre arresti in flagranza e una denuncia. Sequestrate decine di dosi di cocaina ed eroina occultate in contenitori cilindrici di noti farmaci. In un'occasione lo stupefacente è stato pagato con la formale compravendita di un Audi A6 sequestrata come illecito provento del reato. Cambiamo argomento adesso. Forum dell'Acqua Abruzzo e stazione ornitologica tornano sulla questione salvaguardia degli acquiferi, in particolare sul caso del Gran Sasso. Dalla carta delle aree di salvaguardia per l'acqua potabile e per la ricarica delle falde emerge che la zona di rispetto per il Gran Sasso ha un raggio di chilometri e non solo di 200 metri. Urge la messa in sicurezza, dicono gli ambientalisti. In Abruzzo il 50% dei corpi idrici sotterranei, secondo una classificazione dell'ARTA, non rispetta gli standard comunitari di qualità. Il Gran Sasso è tra i casi evidenziati perché la zona di rispetto attorno alle captazioni e ai laboratori è ampia a chilometri e non solo 200 metri. Per questo il Forum dell'Acqua e la stazione ornitologica abruzzese chiedono al vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli, che si sta occupando dell'argomento, di cambiare strategia per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, oltre che approvare la mappa regionale con le aree strategiche attesa da 12 anni. Gli ambientalisti chiedono di adottare le misure per la salvaguardia degli acquiferi strategici senza ulteriori ritardi, come l'allontanamento delle 2300 tonnellate di sostanze pericolose stoccate nei laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso e oltre alla bocciatura della megacava che incombe sulle sorgenti del Pescara a Popoli. Le fasce di rispetto non sono certo di 200 metri, come è avvenuto finora, ma sono di chilometri perché un'eventuale perdita dentro i laboratori di quelle sostanze chimiche pericolose stoccate arriverebbe a inquinare addirittura l'intero acquifero del Gran Sasso. Quindi bisogna prendere provvedimenti, allontanare, come prevede la legge, le sostanze chimiche pericolose dall'acquifero così vulnerabile e per esempio le sorgenti del Pescara, dove c'è in progetto una megacava di 20 ettari proprio a monte delle sorgenti, proprio nella zona di ricarica della falda, ecco, bocciare quel progetto perché non possiamo mettere in pericolo il patrimonio idrico della regione, il Gran Sasso appunto e le sorgenti del Pescara che sono proprio le riserve strategiche. Al momento dello studio affidato ad una società di Padova dall'Ersi, cioè nel biennio 2015-2016, nelle aree di salvaguardia individuate sono stati censiti 25 discariche con segnali di contaminazione, 5 discariche ancora da monitorare, altre 67, 3 siti contaminati di altro genere, 6 siti industriali attivati, 2 stabilimenti a rischio di incidente rilevante, tra cui appunto i laboratori del Gran Sasso. Ci spostiamo a terra, ma adesso sollevazione popolare dell'antico quartiere Santa Maria Abitetto che chiede l'abbattimento di un fabbricato diroccato e pericoloso davanti al teatro romano. Dopo 30 anni esposti da parte dei residenti che denunciavano la presenza di ratti e serpenti nell'area intorno a Rudere, finalmente il comune sembra voler intervenire radicalmente. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. La situazione di degrado di Piazzetta Paris, proprio davanti al teatro romano di Teramo, è da anni una ferita aperta nel cuore storico della città. Un fabbricato privato, diroccato, che crolla di giorno in giorno, generando sporcizia e la presenza di topi e serpenti in pieno centro cittadino. Trent'anni di esposti e denunce dei residenti sono state lettera morta. Le ultime, quelle del comitato di quartiere di Santa Maria Abitetto, recapitate al prefetto di Teramo, al comune, provincia e regione, che sembrano aver sortito forse l'effetto desiderato, quello della demolizione del Rudere e la conseguente bonifica dell'area. Lo spettacolo è veramente orribile. Speriamo che il quartiere di Santa Maria Abitetto questa volta ce la faccia davvero a far abbattere questo scempio. Sì, speriamo davvero. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo interessato il commissario straordinario, anche perché avevamo presentato a novembre un'istanza di intervento sulla messa in sicurezza di questo edificio, a cui il sindaco Brucchi aveva emesso il 30 novembre un'ordinanza, ma di tipo generale, con la chiusura di Via Mozzi e Vico del Cigno. Quello che noi siamo andati a richiedere in questi giorni al commissario prefettizio è quello di effettuare delle verifiche di staticità e soprattutto di vedere come provvedere alla bonifica di questo scempio. I residenti che dicono? I residenti sono stufi, sono stufi perché è un edificio che è in queste condizioni da più di 30 anni, con un giardino incolto, da cui escono ratti e serpenti che circano liberamente in una zona che oltre a essere il cuore della città, perché è a due passi dall'anfiteatro, nelle vicinanze c'è anche un mercato coperto e una mensa solidale. Ci sono negozianti che si lamentano che la sera devono tenere chiuse le porte perché girano ratti anche di grosse dimensioni. Andiamo a Pescara, adesso presentate dall'amministrazione comunale le operazioni di ripiantumazione e manutenzione delle alberature che stanno per partire su tutto il territorio cittadino. Paolo Renzetti. Al via, in città a Pescara, le operazioni di ripiantumazione delle piante e anche le potature, Sindaco Alessandri. Le potature, ma vorrei sottolineare il dato delle ripiantumazioni perché questo, coltiviamo un po' di memoria, è uno degli atti della cosiddetta battaglia degli alberi, perché voi ricorderete che un paio di anni fa, nel 2016, abbiamo dato il via ad una serie di tagli di alberi pericolosi, pericolosi così come accertati da un'indagine preventiva che avevamo commissionato, perché la prevenzione in questo paese è sempre qualcosa di rivoluzionario. Ci sono state naturalmente forti contestazioni. Se voi andate su Google e scrivete taglio alberi, in tutte le città d'Italia da Osta a Palermo succede l'ira di Dio. Però poi ci sono gli uomini e le donne di buona volontà, come questi della presenza dell'amministrazione, che prendono degli impegni, ovvero si tagliano gli alberi ma se ne ripiantumano il doppio di quelli tagliati. Lo facciamo non in omaggio, non l'abbiamo fatto come amo ripetere alla furia e conoclasta, ma semplicemente all'esigenza di sicurezza e di rivitalizzazione del patrimonio arborio, perché gli alberi sono come gli esseri umani, hanno un ciclo di vita che naturalmente deve tener conto anche del fatto che crescono in un ambiente fortemente antropizzato. Quindi siamo contenti di dare il via a questa prima trance delle ripiantumazioni, saranno complessivamente 130, quindi è il pari di quello che abbiamo dovuto tagliare e altrettante ne seguiranno. Quindi diciamo che andiamo avanti verso Pescara 2027. Quali sarà la prima zona interessata da questi interventi? Adesso questi dettagli operativi li chiediamo al... Torniamo all'Aquila, il palazzetto dello sport di Viale Ovidio in uno stato di abbandono, senza il tetto entra acqua e il pavimento marcisce. Pratiche ferme al genio civile dal 2014. Ora la nuova amministrazione prova a dare una svolta. Vediamo. Il palazzetto di Viale Ovidio, unica struttura coperta all'Aquila per il pattinaggio di proprietà del comune, marcisce dentro. Acqua e incuria che preoccupano un poco gli addetti ai lavori. A sollevare il problema, ripreso poi da tante testate giornalistiche, è stato il messaggero con un'inchiesta di Maria Anna Galeota. Lo scorso aprile la vecchia amministrazione ha smontato la copertura del palazzetto per realizzare un nuovo tetto in legno, che però non è stato mai realizzato. Il risultato è che dentro, in baglia delle intemperie, entra acqua, tutto marcisce. Le risorse ci sono, non è un problema di fondi, anche perché il vice sindaco Guido Liris ha spiegato che la pratica è ferma al genio civile dal 2014, ma che ora si sta cercando di sbloccare. Gli stralci dei lavori che si devono fare sono sostanzialmente tre. Il primo riguarda la copertura, il secondo impianti e spogliatoio, il terzo manutenzione e sistemazione degli infissi. Serve l'autorizzazione sismica, però, per il primo stralcio e ora la documentazione è stata inviata al genio civile. Ragionevolmente, i tempi non dovrebbero essere poi così lunghi. Il problema degli impianti è un problema reale, con i pattinatori aquilani, come ha spiegato anche il presidente del CPGA, Mario Miconi, in grande difficoltà, costretti ad emigrare altrove, a volte per fare gli allenamenti. Anche la pista di pattinaggio scoperta di verde acqua, passata al comune, versa in uno stato problematico. Il livello del pattinaggio, che ha avuto campioni importanti come Capannolo in passato, per fare un nome più recenti come Duggento o Lasusmeli, inevitabilmente risente di queste problematiche, con gli atleti che non possono allenarsi come dovrebbero. Un grido d'allarme forte che dovrebbe essere raccorto dalle istituzioni. Il pattinaggio è uno sport importante per l'aquila che resta orfano dei suoi impianti e che purtroppo non ha visto in questi lunghi otto anni delle soluzioni adeguate. Presentata oggi in comune a Pescara, l'iniziativa dedicata al giorno della memoria 2018, patrocinata dall'assessorato alla cultura che si svolgerà al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Vittoria Colonna di Pescara domani alle ore 17.30 con la proiezione in anteprima regionale del film di Otto Frank, padre di Anna, di David de Jong. Vediamo. La proiezione è alle 17.30 al Museo Colonna e sono particolarmente contenta di poter presentare un documentario proprio il 25, a ridosso del 27, il giorno della memoria. Un documentario è un documentario che parla sì del padre di Anna Frank, infatti si chiama Otto Frank, padre di Anna, ma è anche la storia del diario, cioè Otto Frank torna a casa pensando di ritrovare la sua famiglia e non c'è più nessuno. È rimasto però il diario di Anna, che viene casualmente ritrovato da una amica comune e quindi il padre Otto Frank, il padre di Anna, si dedicherà completamente a questo diario. Prima cerca, diciamo, di leggerlo con grande difficoltà, ovviamente dato, diciamo, il fatto che la figlia purtroppo era scomparsa in un modo veramente più che tragico. Però poi pian piano, riuscendo a leggere tutto il diario, spinto anche da tutti quelli che conoscevano Anna, dai parenti, dagli amici, decide di renderlo pubblico, cioè di far conoscere al mondo, attraverso le parole di Anna, questa, diciamo, Shoah, questa cosa terribile della Shoah. E quindi è la storia del padre di Anna e del diario. Docudì è già da un po' di anni che lo realizziamo in altre strutture, però quest'anno con la collaborazione del comune di Pescara e l'assessorato alla cultura siamo riusciti a fare tutta una rassegna più lunga, anche di dieci documentari, al Museo Colonna. Quindi abbiamo due appuntamenti al mese, sempre di giovedì e domani, avendo appunto questa data del 25 abbiamo voluto celebrare anche noi la giornata della memoria con un documentario proprio che, diciamo, ricordasse questa giornata particolare. Apriamo adesso la pagina di sport e ovviamente iniziamo dal Pescara perché non giungono buone notizie per il nuovo attaccante biancazzurro Filippo Falco che lunedì ha accusato una distorsione al ginocchio. Gli esami hanno evidenziato una piccola lesione al collaterale. In attesa di ulteriori consulti il giocatore rischia di stare fermo almeno un mese. Oggi seduta al mattino per i bianco-azzurri a due giorni dall'anticipo di venerdì all'Adriatico, Cornacchia contro il Perugia. Al termine della seduta di allenamento abbiamo ascoltato il centrocampista Marco Carraro. Lo ha sentito per noi Andrea Costantini. Carraro, intanto uno sguardo alla squadra. Nelle ultime quattro partite la squadra ha prodotto una serie importante, tre vittorie, un pareggio. Cosa è cambiato rispetto a quel momento di sbandamento di metà dicembre? Secondo me quel momento lì prima di dicembre è stato un po' anche sfortunato per noi perché non ce ne andava bene una, poi magari a volte perdevamo un po' di concentrazione, però siamo stati bravi nell'ultimo mese a ritrovarci, a crederci e adesso siamo lì, zona playoff. Senti, Zeeman è sinonimo nel pensiero comune di tanti gol fatti e subiti. In realtà il Pescara ha vinto cinque partite su otto per uno a zero. Come te lo spieghi? Ah sì, forse è un po' più, non lo so, un po' più una leggenda questa, però poi siamo noi che andiamo in campo, quindi siamo noi che è la squadra che prende gol o no, quindi i risultati per uno a zero sono un merito di tutti, ce li siamo meritati, sudati fino alla fine, quindi bene così. Senti, normalmente una squadra zeemaniana tende sempre a produrre calcio, a sviluppare un gioco offensivo, invece in queste vittorie voi avete molto gestito la partita, sia quando siete andati in vantaggio subito, o nel primo tempo, sia quando avete colpito la fine tipo contro il Venezia. È quello che chiede Zeeman effettivamente? Lui ci chiede sempre comunque di attaccare con tanti uomini, attaccare, difendere, attaccare, difendere, però comunque vincere anche per uno a zero è importante, quindi quando sei in campo ti dici no, adesso non prendiamo gol e quindi ti impegni al massimo anche in fase difensiva per non prendere gol magari. Per ora sono sinceramente soddisfatto perché non me l'aspettavo neanche io di fare queste presenze, però devo dire che mi sono impegnato molto e sono contento insomma. E a due settimane dal trasferimento all'Ascoli, l'ex attaccante del Pescara, Simone Andrea Gans, parla della sua sfortunata parentesi in bianco-azzurro. Ho voluto Pescara per Zeeman, conferma il centravanti, con senno di poi però non rifarei quella scelta. Lo ascoltiamo. Diciamo che quando mi hanno chiamato poche settimane fa non ci ho pensato due volte perché una squadra che ti dimostra più volte di volerti così tanto ed è anche disposto a comunque a comprarti da un'altra società per me è stata una grossa dimostrazione e quindi ho subito accettato questa destinazione. La scorsa estate invece come è andata? Ci puoi raccontare in breve? Sicuramente c'era l'Ascoli, c'era il Pescara e io ho fatto una scelta, non ho assolutamente rifiutato l'Ascoli, anzi ho semplicemente fatto una scelta dovuto al fatto che ci fosse Zeeman che per un attaccante comunque ha sempre insegnato molto e quindi ho fatto questa scelta. Probabilmente col senno del poi non l'avrei fatta perché avrei dovuto scegliere l'Ascoli forse sei mesi fa. Cosa non ha funzionato a Pescara? Se ne è parlato tanto, Zeeman ha fatto altre scelte, quali rimpianti hai a livello personale? L'unico rimpianto è stato quello di non aver potuto dimostrare il mio valore perché non ho proprio avuto possibilità di giocare. Non so per quali veri motivi però parlare adesso del passato e di persone, di una società che comunque non hanno creduto in me o comunque non mi hanno dato quello che mi aspettavo non ha più senso sinceramente. E adesso scendiamo in Serie C, andiamo in Casa Teramo, un mercato ancora fermo in attesa di risolvere la questione riguardante il direttore sportivo. Lo stallo in Casa Teramo prosegue perché ieri doveva essere il giorno dell'addio ufficiale di Giorgio Repetto, un addio che però non c'è stato, almeno per il momento. L'incontro che doveva tenersi in sede ha visto però presenti solamente il direttore sportivo e il direttore generale Emilio Capaldi, ma non il presidente Luciano Campitelli, assorbito da altri impegni e che non ha potuto far parte della riunione. Ma l'assenza del padrone bianco-rosso di fatto ha portato inevitabilmente ad un rinvio della decisione che tuttavia sembra già essere stata presa. Il problema è che questo tergiversale non fa altro che far perdere tempo nelle trattative di mercato, ancora bloccate per buona parte o per nulla imbastite in altre circostanze. Ancora in stand-by la questione che riguarda Camarà dell'Avellino, per la prima punta si attendono schiarite, quando Sandro Federico sarà ufficialmente in sella. Intanto la gara con Ravenna si avvicina e il diavolo continua ad avere la necessità di un attaccante perché per ora solamente Barbuti può ricoprire il ruolo di Boa nel 4-3-3. Palladini non avrà ancora Ventola, Out certamente nella trasferta Ravennate dovrà spostare dunque Sales sul fronte destro di difesa con Pietrantonio che si occuperà della corsia opposta. A centrocampo, così come era stato la settimana scorsa per Asta, sarà un ballottaggio a 3x2 maglie perché Amadio non si tocca nel ruolo di playmaker davanti alla difesa e poi ci sono De Grazia, Ilaria e Valas che si giocano il posto da titolare. A meno che l'ex maceratese non sia nei pensieri di Palladini una pedina da poter giocare anche nel treno offensivo, considerando che per un bacio terracino in formissima c'è un Tulli che deve ancora trovare il feeling con la porta avversaria. Gara delicatissima quella del Bruno Benelli con un punto a separare le due formazioni, entrambe ad un passo dal barato del play-out. Il Teramo spera nella scossa del cambio tecnico per trovare la prima vittoria lontano da casa e mettere alle spalle una parte della rivoluzione. L'altra metà, quella che riguarda il direttore sportivo, è una storia ancora tutta da definire. Chiudiamo con una notizia di Serie D. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Francavilla in merito al mancato svolgimento della partita con Monticelli che era programmata per lo scorso 17 dicembre al comunale di Casteldilama e valida per l'ultima giornata di andata del Girone F di Serie D. Il giudice ha confermato che la gara non si è disputata per impraticabilità del campo causata dalla pioggia e non ha ravvisato alcuna responsabilità imputabile alla società marchigiana. Dunque la partita andrà giocata, nei prossimi giorni sarà fissata la data del recupero, il ricorso del Francavilla, dunque che voleva la vittoria a tavolino, è stato respinto. E con questa notizia noi chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale, prossima edizione alle ore 19 e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.